Di Edgar Lee Masters, da Antologia di Spoon River, La signora Bliss Il reverendo Willie mi sconsigliò di divorziare per il bene dei figli, e il giudice Summers fece lo stesso con lui. Tirammo avanti fino alla fine del sentiero, ma due figli davano ragione a lui, e due davano ragione a me, e i due che tenevano per lui accusavano me, e i due che tenevano per me accusavano lui, e in ogni caso soffrivano, e tutti erano tormentati dalla colpa d'aver giudicato e con l'animo angosciato, perché non potevano ammirare ugualmente lui e me. Un giardiniere sa che le piante cresciute in cantina o sotto una pietra sono contorte e gialle e stentate, e nessuna madre farebbe succhiare al suo bimbo latte malato dal seno. Ma giudici e predicatori consigliano di allevare le anime, dove non c'è sole, ma soltanto penombra, non calore, ma solo umido e freddo, giudici e predicatori.